La Pietà Vaticana di Michelangelo Buonarroti è una delle opere d'arte più famose al mondo ed è esposta all'interno della Basilica di San Pietro a Roma. Realizzata nel 1499, è l'unico lavoro di Michelangelo ad essere firmato. Sulla cintura della veste della Madonna è infatti incisa la scritta Angelus Bonarrotus Florentinus Facchiebat. Il motivo di tale scelta fu dovuto alle voci che giravano a Roma riguardo l'autenticità dell'opera. Alcuni sostenevano che fosse stata realizzata da un artista originario del nord Europa, altri che Bonarroti avesse realizzato una copia di una statua antica. Fu proprio per mettere a tacere queste dicerie che Michelangelo mise il proprio nome sull'opera stessa. Commissionata da Jean de Beers, cardinale francese, vissuto alla corte di Papa Alessandro VI, La pietà è costituita dalle due figure della Madonna e del Cristo. La prima è seduta con le ginocchia divaricate ed accoglie ad accogliere il corpo del figlio, mentre il secondo giace morto sul suo grembo. L'opera presenta un netto contrasto tra queste due figure, estremamente levigate e lucide, e il basamento che si presenta invece abbozzato in modo grossolano. Una delle ipotesi di spiegazione di tale differenza sarebbe nel desiderio dell'artista di marcare la differenza tra la natura divina di due personaggi della Sacra Famiglia e quella terrena del mondo, e quindi dell'umanità che lo popola. La struttura dell'opera scultorea presenta un aspetto piramidale, in quanto, come detto, le gambe della Madonna si aprono in basso per poter accogliere il corpo del Cristo, posto orizzontalmente sulle sue ginocchia. Le due figure si armonizzano tra loro in modo mirabile, grazie all'uso molto sinuoso del panneggio, che tende a creare una figura unica. Un'altra particolarità dell'opera è data dal volto della Madonna, estremamente giovane, a simboleggiare l'idea che la purezza e la santità fossero promesse di eterna giovinezza. L'opera Michelangelesca è realizzata per essere ammirata prospetticamente, sia per apprezzarne la forma piramidale, sia in quanto la Madonna stessa si rivolge al pubblico, aprendo la mano sinistra, come per mostrare allo spettatore il figlio. Nel 1972 la Pietà Vaticana fu oggetto di un atto vandalico. Un geologo australiano si lanciò contro la statua armato di un martello con il quale colpì l'opera una quindicina di volte, prima di essere bloccato dalla sicurezza. I danni alla Pietà furono molto seri, in quanto i colpi di martello staccarono un braccio della Madonna e ne frantumarono il naso. I lavori di restauro furono comunque fatti molto bene, e l'opera si presenta oggi nel suo aspetto originale. Grazie. Grazie.